La discussione della tesi. Quali sono le strategie più efficaci e quali sono gli errori da evitare? Io sono Daniele Vinci, da più di dieci anni tengo corsi di metodologia della ricerca presso la facoltà dove insegno, ho curato il manuale di metodologia generale che accompagna passo passo nella realizzazione di un elaborato curricolare come ad esempio una tesi, dalle fasi iniziali sino appunto alla discussione, chi fosse interessato trova maggiori informazioni qui sotto e curo questo canale dedicato alle questioni pratiche della ricerca accademica. Il lavoro della tesi non si conclude con la consegna del documento in segreteria, il più delle volte il lavoro si conclude quando discutiamo la tesi o come anche si dice quando difendiamo la tesi. Vediamo quindi questo argomento attraverso sette consigli. Il primo consiglio è scriviamo il testo della presentazione. Scriviamo il testo della presentazione. Ora uno potrebbe dire ma io conosco perfettamente l'argomento della mia tesi che bisogno ho di scriverlo. Conoscere l'argomento e saperlo presentare sono due cose completamente diverse. Tra l'altro l'emozione del momento può far sì che io non ricordi cose importanti e invece ricordi cose inessenziali. Quindi scriviamo il testo della presentazione. Ed ecco il secondo consiglio. Diamo una struttura al nostro testo. Non commettiamo l'errore di scrivere un testo continuo ma diamo al testo una struttura che per esempio potrebbe seguire questa scaletta. Vediamo. La struttura che ora vedremo non fa altro che riprendere il contenuto della introduzione e delle conclusioni del nostro lavoro. Quindi durante la presentazione della nostra tesi noi non dobbiamo mettere nulla di nuovo. È già tutto scritto nel nostro testo. Dobbiamo scegliere alcune cose e possiamo prendere spunto da questa struttura. innanzitutto possiamo partire dal tema che abbiamo scelto. Possiamo prendere spunto per esempio dal titolo del lavoro. Questo può essere il nostro incipit, il nostro inizio. Quindi possiamo parlare dell'occasione che ha spinto a occuparcene. Qual è stata l'occasione per la quale abbiamo scelto questo tema. Poi il contesto da cui si è partiti per esempio. Ognuno di questi elementi ovviamente può essere sviluppato o anche omesso. Ognuno valuti il proprio caso. O quali fini o i fini verso i quali ci si è orientati. Qual è stato il fine o i fini che si è avuto nel sviluppare la ricerca. Quale metodo è stato utilizzato. Il confronto tra oppure quale metodo è stato applicato. Questo è estremamente importante. Il sesto punto è molto importante. Cioè i limiti nei quali siamo rimasti. È molto importante specificare a chiare lettere entro quali limiti siamo rimasti. Quali sono stati i nostri confini. Questo è importante per prevenire eventuali obiezioni. Poi riassumiamo il nostro percorso. Quindi descriviamo rapidamente il contenuto dei capitoli. Teniamo presente come vedremo tra poco che non abbiamo a disposizione molto tempo. Quindi dobbiamo essere molto sintetici. Una descrizione sommaria del contenuto di ogni di ogni capitolo. Dove è importante soprattutto che cosa? Far capire il percorso. Che è un percorso logico unitario che va da un punto e arriva ad un altro. Poi quali sono le conclusioni alle quali siamo giunti. Magari ci sono ancora delle questioni ancora aperte. Un orizzonte che si è aperto. E infine possiamo in conclusione ringraziare. Ovviamente come si diceva ognuno di questi punti può essere maggiormente sviluppato appena appena toccato oppure anche omesso. Siamo arrivati al consiglio numero 3. Facciamo esempi concreti. Durante una esposizione orale è estremamente efficace fare ricorso ad alcuni esempi concreti ben scelti. Per esempio mentre stiamo presentando un capitolo possiamo scegliere un episodio, un dato, anche un aneddoto, una citazione che possano rendere efficacemente l'intero senso del capitolo. Il quarto consiglio suggerisce di evidenziare la struttura del testo. Evidenziare la struttura significa trovare il modo di contrassegnare ad esempio con il grassetto, con l'evidenziatore, le parti del testo. Perché mi deve essere possibile alzare lo sguardo, guardare i docenti, la commissione e quindi se io ritorno al testo immediatamente devo capire in quale punto mi trovo. Questi elementi devono essere pochi e ben scelti. Siamo arrivati al quinto consiglio. Ciò che non occorre dire non diciamolo. Durante un'esposizione orale abbiamo a disposizione poco tempo quindi dobbiamo concentrarci sull'essenziale. In particolare non dobbiamo trattare neppure di sfuggita quegli argomenti sui quali non ci sentiamo sicuri. Ora uno potrebbe dire io non mi sento sicuro su nulla, non credo che sia così. Ci sono sicuramente degli elementi, dei punti, dei passaggi che per noi sono più deboli di questi elementi. Non ne dobbiamo parlare, cioè non dobbiamo essere proprio noi a dare uno spunto al nostro controrelatore per farci la domanda su ciò che conosciamo meno. Se non è essenziale non ne parliamo. Ed eccoci al sesto consiglio. Pronunciamo più volte il testo e cronometriamoci. Perché è importante pronunciare il testo e farlo più e più volte? Innanzitutto perché ci dobbiamo familiarizzare con il testo. Durante l'esposizione noi non dovremo semplicemente leggere il testo. Noi infatti dobbiamo ogni tanto per esempio sganciarci dal cartaceo e guardare la commissione, guardare i docenti. Ma questo sarà possibile se il testo ci è familiare. Inoltre è molto importante cronometrarsi. Informiamoci sul tempo che avremo a disposizione. Avremo a disposizione 8 minuti, 10 minuti, 15 minuti. Il testo che abbiamo preparato deve avere quella durata. Per esempio se noi ci accorgiamo leggendo il testo che è troppo breve dobbiamo integrare. Se invece ci accorgiamo che è troppo lungo dobbiamo accorciarlo il testo. Ma in particolare non deve accadere che ad esempio il presidente ci richiama e dice il suo tempo è terminato e noi non riusciamo a concludere. Le conclusioni sono molto importanti. E da ultimo cerchiamo di dare l'impressione che quello che stiamo dicendo stia nascendo in quel momento. Siamo arrivati all'ultimo consiglio, poi faremo insieme delle considerazioni finali importanti. L'ultimo consiglio che riguarda la questione della risposta alle critiche. Cosa può accadere? Che il contro relatore ci faccia delle obiezioni che possono essere anche molto dure. Come dobbiamo regolarci in questo caso? Ora è difficile dare delle ricette già pronte e universali. Quello che si può dire che cos'è? Innanzitutto se non è necessario replicare non replichiamo. Se non ci viene chiesto esplicitamente di replicare non replichiamo. Poi ognuno agirà come crede. Ma io do questo suggerimento. Ma se ci viene invece chiesto se dobbiamo proprio farlo allora innanzitutto ringraziamo. Ringrazio per l'osservazione che mi è stata fatta. E poi dobbiamo pensare una cosa fondamentale. Allora, abitualmente il contro relatore che ci fa quest'obiezione vuole portarci sul suo terreno. Noi invece dobbiamo restare all'interno del perimetro del nostro lavoro. Prima si parlava proprio dei limiti del nostro lavoro. Ecco, all'interno di questi limiti noi dobbiamo rimanere. All'interno di questi limiti dobbiamo difendere non le nostre ragioni ma le ragioni del lavoro che abbiamo fatto. E cerchiamo per quanto è possibile di mantenere la calma, di restare sereni. Concludiamo con una riflessione di Umberto Eco il quale diceva che il tesista deve essere umile perché sa quali sono i limiti del proprio lavoro e sa che alcune cose forse si potevano fare anche meglio. Ma deve anche essere consapevole del valore del proprio lavoro perché sa quanto tempo e quanto sforzo gli è stato necessario. Deve esserne giustamente orgoglioso. Ricordo che è possibile lasciare un commento qui sotto e iscriversi al canale. Chi vuole può anche contattarmi. Trova le informazioni nella sezione di questo canale. Buona tesi a tutti. Grazie.